Salve a tutti oggi vi mostrerò come scaricare max pin 3 per playstation 3 allora prima di tutto dovete avere uTorrent che trovate facilmente su google e dopo andate su questo link che vi mostrerò nella descrizione si aprirà questa pagina dove ci sarà il torrent per max pin 3 quindi una volta caricata la pagina fate su scarica torrent e poi fate su apri poi qua fate su ok e vi comincerà il download io non posso provarlo perchè non ho la modifica su playstation 3 cioè ho la playstation 3 e non ho la modifica quindi fatemi sapere se funziona con questo ho finito grazie e possiamo dire